Musica Un cordiale saluto, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 c'è l'informazione locale con la lettura dei giornali, la rassegna stampa che da 11 anni vi tiene compagnia tutti i giorni, ormai esclusa la domenica Allora partiamo dal santo del giorno, oggi è il beato Carlo Gnocchi Don Gnocchi è un famoso sacerdote conosciuto da tanti il sole è sorto alle 7.35, tramonterà alle 18.09 Allora oggi è mercoledì 25 ottobre, due mesi a Natale il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per il transito di nuvole alte e stratificate avremo temperature in diminuzione nei valori minimi quindi le temperature della notte, in lieve aumento invece quelle del giorno avremo ancora un po' di venti nord orientali domani giovedì 26 il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento venerdì 27 ancora cielo poco o irregolarmente nuvoloso le temperature ancora in aumento mentre il peggioramento è previsto, un peggioramento è previsto per la giornata di sabato seguito però da un ritorno di condizioni di tempo stabile i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, l'edizione di Pesaro questa è la prima pagina che al centro mette come fotonotizia un fermo immagine di due ladri che sono all'opera all'interno di una lavanderia automatica e questo signore è il proprietario Mario Battistoni che si sfoga oggi sul giornale e dice, essendo titolare di queste quattro lavanderie automatiche saccheggiate dai ladri a partire dal 2007, quindi sono dieci anni questo è il quattordicesimo furto lui dice ironicamente, sarcasticamente, ma chiaramente sarà sul disperato aspetto il quindicesimo ma non mollo però adesso chiede aiuto, qualcuno mi aiuti le altre notizie, il noto virologo Burioni è finito nel mirino di associazioni e privati Novavax, cioè di quelli che si battono contro l'obbligo dei vaccini ebbene contro il professor Burioni sono arrivati 47 esposti l'ordine dei medici però li ha archiviati tutti quanti aveva definito somari raglianti a alcuni genitori il consiglio di disciplina però dice, è vero, sono parole forti ma le espressioni non ledono il decoro della professione il comune di Pesero abbassa la Tari la porta sarà abbassata dell'1,5% sconti anche sulle mense scolastiche insomma da il contentino, secondo il Corriere poi questa fotografia invece che riguarda un pino secolare di qualche centinaio di anni che si è schiantato sulla villa di Ranocchi e poi la politica da Urbino con la sconfitta di Scaramucci ora cessanti a guidare il partito democratico la pagina di Fano invece del Carlino la bohème della discordia questo è il titolo Scoppia la guerra degli orchestrali l'orchestra sinfonica Rossini è stata esclusa dalla bohème che è in programma dal 1 al 3 dicembre al Teatro della Fortuna a novembre anche a Fermo e ad Ascoli e gli orchestrali accusano gli amministratori del settore quindi il comune di Fano la fondazione Teatro della Fortuna la rete lirica delle Marche di mettere in grave difficoltà l'orchestra e come al solito arriva il sindaco che cerca di mettere una pezza da qualche parte e di risolvere la questione apre uno spiraglio ma in fondazione rispondono picche per Natale il pincio di Fano si veste di ghiaccio guarda che bella fotografia con la neve sarà quello della pista di pattinaggio previsti anche un mercatino con le casette di legno e un trenino Marchegiano, il vice sindaco, l'assessore al turismo rassicura tutti sulle spese dice il comune non spenderà una lira il progetto si autosostiene la pista sarà illuminata da una stella cometa a cui sta lavorando l'architetto Stefano Seri che ha collaborato con Paolo del Signore per l'albero di piazza 20 Settembre e oltre al pincio resta ovviamente l'allestimento in piazza 20 Settembre che come già abbiamo detto ieri ospiterà l'albero oltre alle bancarelle più commerciali rispetto a quelle natalizie del pincio i vongolari il problema delle vongole soprattutto delle leggi che ostacolano il lavoro dei vongolari i vongolari affogano nei divieti interrogazioni in consiglio regionale di Micucci del PD servono deroghe il ministero vieta la pesca entro le 0,3 miglia dove si trova in realtà poi il prodotto c'è un precedente i consorzi di Monfalcone e Venezia hanno avuto però l'autorizzazione a pescare entro le 0,3 miglia e quindi noi si domandano i pescatori i vongolari fanesi anche perché entro quel miglio insomma significa ridurre notevolmente la possibilità di pesca da parte delle vongolari poi la nomina qui di spalla vedete la nomina di Guidi al comando il tenente colonnello Gabriele Guidi al comando dei forestali è stato nominato comandante del gruppo carabinieri forestali di Peso Urbino il tenente colonnello laureato in scienze forestali all'università di Firenze marito e moglie che decidono di andare a raccogliere i funghi adesso ce ne sono ultimamente è piovuto insomma però se non si conoscono i funghi insomma bisognerebbe lasciar perdere a parte che ci vuole un patentino bisogna essere però al di là di questo se uno volesse proprio fare come dire il supereroe può è meglio la che lasci perdere perché cosa è successo? è successo che si è trasfiorata la tragedia l'altro giorno a Pesaro una coppia è stata ricoverata al San Salvatore per fortuna i coniugi non sono in pericolo però avevano raccolto per i campi questi funghi li avevano bolliti poi addirittura li avevano fritti però non è bastato per eliminare il veleno hanno avuto tra l'altro i tipici sintomi dopo averli mangiati che sono la sudorazione brividi, vomito e forti dolori addominali hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava sono andati di corsa all'ospedale si sono portati con sé e con loro anche i funghi che avevano cotto quindi per agevolare anche l'aiuto dei medici sono stati brevissimi al San Salvatore e hanno risolto la questione sono stati lì la notte poi piano piano si sono disintossicati e adesso torneranno a casa però insomma se la sono vista brutta attenzione sicurezza state sguarnite dimezzati pattugliamenti dopo l'accorpamento della postrada e 5 stelle lanciano l'allarme siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino si è passati da circa 200 servizi del 2016 prima del trasferimento ai 100 del 2017 dunque rilancia l'allarme sicurezza sicurezza stradale il Movimento 5 Stelle di Fano con una mozione che con una mozione presentata in Consiglio Comunale torna a parlare dei rischi connessi all'accorpamento della sottosezione di polizia stradale di Fano a quella autostradale avvenuta a giugno del 2016 e anche il Corriere Adriatico ne parla pattugliamenti dimezzati con la polstrada accorpata i 5 stelle rilanciano il dato sui controlli stradali rivelato dal sindacato Consap e andiamo avanti con la pagina di Urbino del Corriere i lavori urgenti al liceo classico il nuovo preside il preside è lo stesso del Torelli di Fano Samuele Giombi Fanese ora capo del Raffaello il nuovo preside da pochi mesi ha già sollecitato interventi per migliorare le condizioni della scuola ovviamente si tratta di miglioramenti sull'edificio in particolare sugli infissi che sono vecchi in ferro con spigoli e vetri che possono essere davvero pericolosi perché da un punto di vista didattico e progettuale il Raffaello ha tutte le carte in regola regola e andiamo sulla prima pagina del Corriere Adriatico anche qui in primo piano in evidenza la riduzione dell'Imu e dell'Atari quindi le tasse a Pesaro e poi sulle mense scolastiche il costo diventerà più leggero il Comune annuncia una serie di sgravi di cui beneficeranno le famiglie ma a centro pagina la foto del porto di Pesaro dove è stata siglata l'intesa con l'autorità di sistema portuale il patto dello yacht buono fino al 2034 oltre 15 milioni di investimenti da parte di Lisa Group per il cantiere di Rossini per quanto riguarda i vaccini Asur ai dipendenti probabilmente anzi no, senza probabilmente perché è un provvedimento senza precedenti in Italia cioè che l'Asur Marche sta attuando per gli operatori a rischio tra i 14 mila dipendenti dell'azienda sanitaria unica da Pesaro ad Ascoli Piceno praticamente i vaccini saranno obbligatori ai dipendenti nei reparti più a rischio andiamo nelle pagine interne e apriamo la pagina di Fano l'orchestra Rossini esclusa dal teatro lirico ora protesta la sinfonica che dà lavoro a musicisti fanesi è stata scalzata nella stagione dalla forma all'incontro serale con serie alla scuola Gandiglio c'erano con il presidente anche diversi orchestrali che oggi sono preoccupati per il loro futuro il sindaco riconosce la formazione e la qualità di risorsa del territorio e promette un riequilibrio andiamo sulla pagina l'altra pagina di Fano del Corriere un volo in cielo per finanziare neuropsichiatria dei bambini domenica lo ricordiamo c'è un appuntamento all'aeroporto di Fano ci sono 27 posti disponibili previ un contributo minimo di 40 euro che servirà appunto per finanziare il reparto un macchinario di questo da donare al reparto di neuropsichiatria infantile ebbene ci sono 27 posti quindi 27 voli se volete magari domenica c'è anche una bella giornata di sole volete fare un giro sui cieli sul cielo di Fano e vedere su quest'aereo un po' com'è la città dall'alto ma non solo la città anche le colline e quant'altro potete prenotare e contribuire a questo progetto che è molto nobile e molto bello spariscono altri semafori a Pesero nuovo rondò sulla statale lavori all'incrocio tra le vie del Monaco e Belvedere si parte il 6 di novembre i tecnici valutano di riaprire via Gradara per chi percorre via Ponchielli Gostoli parliamo di politica confermato da 80 circoli del Partito Democratico Urbino taglia invece il ribelle Scaramucci l'ex numero 1 Ducale aveva paventato l'idea di correre per la segreteria provinciale domani sera c'è il congresso il tartufo di Acqualagna ieri ricorderete in rassegna vi abbiamo parlato di quella butade del sindaco di Acqualagna che diceva si era schierato contro contro Trump niente meno che il presidente degli Stati Uniti il tartufo di Acqualagna però resta a stelle a strisce e lo credo bene anche perché il mercato dicono gli operatori del tartufo quest'anno visto come sono messi nel senso che ce n'è anche poco dicono no all'embargo lanciato dal sindaco i commercianti della Tube Sass declinano l'invito del sindaco e rilanciano la battaglia su fiscalità e tracciabilità del prodotto Medici ospedalieri per Fossombrone è l'altra pagina del Corriere Bonci quattro sindaci Bonci Aguzzi Marchetti e Storoni chiedono una copertura settimanale notturna per il reparto di cure intermedie due lettere piene di richieste ma nessun risultato la domanda che si pongono adesso i sindaci è dove sono i 20 posti ulteriori previsti dalla delibera regionale 139 Valcesano comitato scrive al prefetto ora si deve tagliare l'erba la lettera riguarda la cura del parco delle rimembranze dedicato ai caduti della guerra e addio invece è un lutto addio a Bucarelli l'altra pagina da Pergola l'amato sindaco che avviò i lavori per l'ospedale governò Pergola ininterrottamente per 18 anni assunse l'incarico nel 1957 quando di anni ne aveva soltanto 26 Urbino dal Corriere Adriatico per i disabili più fondi nel bilancio di previsione Urbino al centro incalza l'amministrazione serve un'adeguata copertura finanziaria la cura della persona non autosufficiente dovrebbe essere un diritto riconosciuto dallo Stato forte rischio idrogeologico il Comune di Urbino si attivi c'è un'interrogazione di Bonita Cleri che tira in ballo la gestione del territorio Ducale e ancora dalla rassegna le ultime due pagine da Senigallia bufera sul gettone ai volontari nasce il comitato che riunisce tutte le associazioni di protezione civile con l'ipotesi rimborsi il regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale l'obiettivo è quello di passare da 89 a 500 iscritti l'ultima pagina è sulla cronaca il pusher di fumo spacciava in casa in garage aveva un chilo di asci ci ha arrestato un tunisino di 51 anni blitz dei carabinieri nell'appartamento dove viveva con la famiglia la droga era nascosta all'interno di un borsone avrebbe fruttato 11 mila euro e poi la psicosi bomba attentati valigia abbandonata vicino alla chiesa scatta l'allarme ma dentro per fortuna ci sono soltanto dei vestiti prima di salutarvi vi ricordo che venerdì sera su Fano TV in esclusiva andrà in onda gli sbancati 2 abbiamo già trasmesso prima dell'estate gli sbancati il film di Henry Secchiaroli adesso anche visto il grande successo di ascolto e di pubblico riproporremo venerdì sera in prima serata su Fano TV gli sbancati 2 il film campione di incassi che ha riempito le sale cinematografiche di tutta la provincia un film in dialetto fanese con tantissimi attori tantissimi attori delle migliori compagnie della città ma con uno sguardo anche sul resto della provincia a recitare in questo film ci sono ricordo anche per esempio due sindaci anzi forse tre sindaci insomma un bel film da vedere e come ho già detto anche ieri nel telegiornale è un film in prima visione e non ci saranno repliche quindi l'appuntamento è venerdì sera subito dopo il telegiornale telegiornale che torna questa sera alle 20.30 buona giornata a